Amore sotto i riflettori Letizia Petris svela tutto su Paolo Masella La storia d'amore tra Letizia Petris e Paolo Masella è nata sotto i riflettori della diciottesima edizione del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Questa relazione, iniziata in un contesto di visibilità mediatica e tensioni emotive, ha catturato l'attenzione dei telespettatori e ha generato molte discussioni sui social media. Recentemente, Letizia Petris ha deciso di aprirsi e condividere alcune riflessioni sulla sua partecipazione al reality e sulla sua relazione con Paolo Masella. Durante una chiacchierata sui social, Letizia Petris ha rivelato dettagli intimi sulla nascita e l'evoluzione del suo legame con Paolo Masella. Agli inizi non capivo questi punti di vista stabiliti su quello che si è visto in un reality, ha confessato. Ad oggi mi va bene così. Non devo dimostrare le cose al mondo ma devo dimostrarle a lui. Non sono mai stata una che in pubblico ama smancerie, non l'ho mai fatto prima e non comincio ora solo perché ho fatto un reality. Letizia ha sottolineato l'importanza della sua libertà e il desiderio di non doversi giustificare o spiegare continuamente. Amo la mia libertà e non amo dovermi giustificare o dover dare spiegazioni. Molti di voi non hanno compreso il mio stato d'animo di quel momento, ma si sono basati solo sulle cose più superficiali. Parlando di Paolo Masella, Letizia ha espresso grande stima per il suo compagno. È un ragazzo intelligente. Non avrebbe sprecato tempo con una persona indecisa. Se aveste solo per un momento capito anche i miei punti di vista e quello che stavo vivendo, avreste compreso molti atteggiamenti che purtroppo non sono stati compresi. Letizia ha riflettuto sulla natura della televisione e su come essa possa distorcere la percezione delle persone. Ma è anche questo il bello della TV? Ci si fanno delle idee a volte molto sbagliate e false che poi solo il tempo potrà far vedere la verità. E penso, ad oggi, vi siate resi conto di cosa è stato falso e cosa è stato vero. A questo punto la giovane ha sottolineato come la loro storia d'amore abbia superato le aspettative del pubblico e si sia radicata in una realtà ben più profonda. Abbiamo scelto che la nostra storia andava ben oltre a quello che i telespettatori volevano vedere e, ad oggi, chi è nella nostra vita ama soprattutto questo. Come mi avete visto in casa, sono anche fuori, libera di provare le mie emozioni in maniera pura e totalizzante, non per farmi visibilità. Altrimenti avrei giocato diversamente. Letizia Petris ha offerto uno spaccato sincero e autentico del suo rapporto con Paolo Masella, rivelando come la loro relazione sia cresciuta e maturata nonostante le difficoltà e le incomprensioni del pubblico. La sua testimonianza è un invito a guardare oltre le apparenze e a comprendere le dinamiche personali che spesso si nascondono dietro le luci della ribalta.